Sicuramente è stata una partita vincente, poi supplementari e tutto. Sarò retorico e tutto, però quando dico che i giocatori vincono le partite oggi è la dimostrazione che i ragazzi hanno dato tutto quello che hanno perché siamo partiti male, abbiamo tirato malissimo il primo tempo, ho fatto delle brutte scelte a voler sfidare il sottocanestro uno come Fesenko, Fesenko ci ha fatto molto male all'inizio, abbiamo trovato un'alternativa per prendere il primo black e tutto con Ricci che si è aperto, ha trovato dei tiri aperti, qualche canestro da sotto e poi il secondo tempo è stata una partita un po' così. Abbiamo difeso meglio di come facciamo di solito perché se no non era possibile portare a casa questa partita, mi hanno sbagliato un paio di tiri aperti da chiuderla nei tempi regolamentari, loro hanno sbagliato il tiro per vincerla perciò poi siamo andati ai supplementari, ma senza offesa penso che la mia squadra non abbia rubato niente.